Sei venuto al mondo tra le mie braccia e ti ho visto morire tra le mie braccia. Queste sono le terribili parole dette da una mamma che da oltre un anno e mezzo sta lottando per avere giustizia per suo figlio. La sta ancora chiedendo. Lucila Masucci, dove sei e che state ci racconti? Crotone, 35 gradi. L'aria è pesante, insostenibile. Insostenibile come il dolore di Katia. Katia che ha perso Giuseppe. Giuseppe è questo ragazzo che vedete qui. È dappertutto questo ragazzo. Guardate, Giuseppe vive, scrive la mamma su questa panchina, perché Katia lo ha visto morire. Lo ha visto morire proprio qui dentro, davanti ai suoi occhi, mentre lo abbracciava. È tutto stampato nella sua mente. Eppure la settimana scorsa in tribunale l'assassino di suo figlio ha raccontato un'altra verità. E allora Katia, la mamma di Giuseppe, tra poco ci raggiungerà proprio qui. Tornerà lì dentro dove il suo figlio è morto e ci dirà la verità è una. Mio figlio è morto così. Ora torniamo a quella terribile sera, quando nel silenzio un urlo. Un urlo di una madre che sta vedendo morire il suo figlio. Lucila Masucci. Un urlo di una madre che sta vedendo morire il suo figlio. Non puoi aspettare Giuseppe. Deve andare. Ha soli 18 anni e un mese. Deve andare. Tutto spazzato via. L'allegria dei suoi anni. I progetti da disegnatore. Il lavoro per aiutare la famiglia. Tutto spazzato via. In una notte. 13 gennaio 2018. Giuseppe è nell'associazione di sua madre a Crotone. C'è la sua ragazza lì. Ci sono i suoi fratelli. E c'è anche un uomo che spara. Quattro colpi. Uno. Dritto al cuore. Giuseppe muore negli occhi di sua madre. A sparare è Salvatore Gerace. Un vicino di casa. Si fa portare via in carrozzella. Mi sentivo spiato da Giuseppe e dalla sua famiglia. Dirà così quest'uomo. E dirà tante altre cose. La verità gli scivolerà dalla bocca in parole sempre diverse. Deposizione dopo deposizione. Ma la mamma di Giuseppe l'ha vista quella verità. Voleva morire Katia quando è morto Giuseppe. E invece si è strappata quella verità dagli occhi. E l'ha trascinata per strada. Nelle piazze. Nelle aule di tribunale. Sopravvissuta per lui. Per suo figlio. Torniamo a Crotone. Lucilla, sei con la mamma di Giuseppe, la signora Katia. Signora Katia, buon pomeriggio. Katia, usiamo il tuo coraggio una volta ancora. Per raccontare ancora una volta cosa succede esattamente la notte in cui muore tuo figlio. Ci proviamo? Io lo ricordo molto chiaramente perché è sempre davanti a me. Allora, io ero in questo angolo. Perché questo era poco poco più spostato. E da quest'angolo io ho visto il gerage che entrava. Entrava con questa mano alzata così con la pistola in alto. Aspetta, veniva da quella porta? Sì, sì, veniva dal portone. Tu l'hai visto? Sì, l'ho visto e quindi io mi sono diretta. Che cosa hai notato? Aveva la pistola in mano, aveva la mano alzata. Che non era... che entrava in maniera, come dire, minacciosa. Non è entrato, non ha detto nulla. Aveva la pistola in alto, sì. Quindi sono partita da quest'angolo e sono andata verso di lui. E ho cominciato a dirgli cosa fai con questa pistola, mettila a posto, cosa puoi fare. Perché io non capivo. Cioè, cercavo di capire cosa stava per succedere. E poi, mentre io ero lì vicino a lui, lui avrebbe potuto colpirmi, tranquillamente, perché ero proprio a un paio di centimetri da lui. Giuseppe ha avanzato. Giuseppe era qui. Sì, era vicino a me. Giuseppe, mentre ha avanzato, ha fatto solo due passi e lui ha incominciato a sparare i primi due colpi. E lo ha ferito alle gambe, ho sentito mio figlio gridare. E lì mi è caduto il mondo addosso. Perché quando ho visto mio figlio ferito, che gridava, colpito da un'arma, allora io mi sono diretta verso la porta, nella speranza che lui mi venisse dietro, no? Per colpire me, per uccidere me, per dare ai ragazzi un'opportunità. Volevi che l'assassino seguisse te? Eh certo, avrei voluto morire a posto di Giuseppe, questo è chiaro. E poi uscendo fuori, praticamente io ho incominciato a gridare, è stato tutto in questione di attimi. E io nel riavvicinarmi ho sentito il terzo colpo e mi sono avvicinato, ho visto che il gerage lo afferrava da un cappuccio, lo faceva chiedere e lo colpiva alle spalle. Cioè tuo figlio era già a terra? No, lo ha preso dal cappuccio come un animale e mentre lui lo faceva chiedere lo colpiva alla spalla. Giuseppe è caduto e poi lui praticamente, mentre lui era già ferito, perché già come avevo chiesto io alla dottoressa L'Aquila è stato il colpo che gli ha fatto più male, perché gli ha spaccato la spalla. Praticamente lui già a terra, si è avvicinato proprio alla maglietta con la pistola, proprio al cuore. Ha colpito, ha fatto l'ultimo colpo, si è inginocchiato su Giuseppe e l'ha colpito volutamente per far per ucciderlo. Signora Katia, lei ha un tatuaggio, ha tatuato il nome di suo figlio? Sì, è un tatuaggio che ho fatto subito dopo perché mio figlio era un bravo ragazzo, era un ragazzo che amava la famiglia, che aveva dei valori importanti, che avevamo questo rapporto importante. Io ho visto anche delle foto bellissime di voi che ballavate insieme, che rapporto c'era tra di voi? Eh sì, noi facevamo... Che ragazzo era Giuseppe? Lo vogliamo ricordare? Noi facevamo tutto insieme, nel senso che noi andavamo a fare spesa, lui mi raggiungeva, noi andavamo a ballare insieme, andavamo insieme come la famiglia, andavamo a passeggiare insieme. Tante volte mi veniva a prendere mentre io facevo la spesa, non era un ragazzo che uscendo da scuola si perdeva e mi chiamava, mamma dove sei, ti vengo ad aiutare e ti porto le buste. Quindi tornavamo a casa insieme per parlare poi del fratello o della sorella perché lui aveva poco tempo, perché poi andava a lavorare. Quindi diciamo che era il piccolo metto di casa. Era un bravissimo ragazzo, era un bravissimo ragazzo. Ma signora Katia, Gerace, l'uomo che ha sparato, ha raccontato tutta un'altra storia, ma lei come la commenta il racconto di quest'uomo? Allora, lui è stato un attore, io dopo un anno che sono stata dietro ai tribunali, quel giorno io sono crollata e cosa che non è mio costume, io mi sono messa a gridare nel tribunale, per chi mi conosce perché l'ho chiamato assassino, ho chiesto giustizia di dargli il massimo della pena perché ha incominciato ad offendere, ha incominciato ad offendere, ha raccontato un sacco di storie, è proprio un attore nato con calma. Lei quindi l'ha incontrato il 2 di luglio, giusto? Lei il 2 di luglio ha incontrato l'assassino di suo figlio? Io mi sono sempre presentata a tutte le udienze in tribunale, io l'ho sempre incontrato. Che effetto le ha fatto incontrare quest'uomo? Questa volta mi ha fatto proprio un effetto devastante, infatti poi sono andata in crisi la settimana scorsa, sono stata male perché il vedere che lui sapeva che noi l'abbiamo visto e raccontava tutte quelle scene, lui ha raccontato praticamente che mio figlio gli è andato addosso con la moto, quindi mio figlio avrebbe assalito lui, quindi questo mi ha fatto tanto rabbia, e dico ma come fa un uomo a mentire fino a questo punto? Un uomo che non si è pentito fino alla fine, mio figlio aveva solo 18 anni, aveva diritto a vivere, quindi come fa un uomo a fingere così? Cioè un uomo che non si pente, che ha ucciso in maniera così violenta e ferata, c'erano anche gli altri due, un uomo che non ha dimostrato nessuna... Di fronte a testimoni, allora vorrei chiedere all'avvocato, insomma quest'uomo, l'assassino di Giuseppe, è entrato in una proprietà privata? È entrato armato, ha sparato di fronte a testimoni, insomma in questi casi la testimonianza oculare, ecco, quanto aggrava la posizione dell'imputato? Sicuramente aggrava in termini di accertamento della colpevolezza, non credo che vi siano dubbi su chi ha commesso questo efferrato dilitto e fra l'altro ascoltando il racconto della madre, io non so se poi le circostanze dovessero essere confermate, i giudici riconosceranno anche la crudeltà, cioè mi è sembrato nella modalità dell'omicidio addirittura una sorta di colpo di grazia, dice si è avvicinato alla maglietta, ha voluto colpire il cuore. E' già stata riconosciuta la crudeltà, ecco, ecco, quindi voglio dire, è chiaro che questo avrà un peso su tutto il giudizio così come a questo punto dovranno essere accertate altre dinamiche, magari il movente e altre circostanze aggravanti che possono avere determinato il massacro di un ragazzo così giovane. Tra l'altro una cosa che colpisce signora Caggia è proprio che lei continua a chiedere a giustizia, ha una forza incredibile, non si è mai arresa, col tempo è diventata ancora più tenace. Le posso chiedere? Che cosa farà adesso? Allora, io continuerò a chiedere giustizia fino a quando mio figlio, lui il gerace non avrà la giusta pena e continuerò a portare avanti questa associazione a nome di Giuseppe, ad un passo da te, perché solo attraverso la cultura si può sconfiggere la piccola criminalità. Questa è la strada, non ce ne sono altre. E noi siamo con lei, quando vorrà tornerà a parlare attraverso la vita in diretta estate. Grazie, grazie a Katia Delirillo e a Lucilla Busucci, un abbraccio. Grazie. Un abbraccio a te, Bert. Grazie.